Sono Mohamed Obasi, pugile professionista, combatto nella categoria di Pesi Super Mosca. È un'esperienza fantastica, sono molto contento di essere in Messi perché è uno dei paesi dove sono nati tanti pugili e sono state tante leggende riguardo al pugilato ed è uno sport dove lo amano davvero e non potevo chiedere un posto migliore che il Messico. È un incontro molto abbastanza forte perché l'avversario è un pugile molto buono, che rispetto, ha un record buonissimo che vincere il migliore. Il mio sogno è arrivare ai livelli mondiali, vincere il mondiale e stare mezzo ai pugili, mezzo ai numeri uno.